L'hanno battezzata Attila, l'ondata di gelo polare che caratterizzerà i prossimi giorni, ma non sarà il flagello di Dio, ma piuttosto la benedizione di Dio sui radicchi, perché dona ad essi colore, bontà e croccantezza. Il freddo è il grande amico dei radicchi invernali veneti, per i quali si annuncia una stagione abbondante e di grande qualità. Questo vale in particolare per i radicchi tardivi GP di Treviso. E la neve e le gelate che ci sono state che hanno dato sapore e gusto ai nostri prodotti. Il mercato sta andando abbastanza bene, ottima qualità, buona quantità, e penso che le nostre aziende porteranno a casa un reddito interessante in questa stagione. È partita bene la stagione del radicchio, le ha dato il via il Radicchio d'Oro, manifestazione nazionale organizzata nell'hotel Fior di Castelfranco, dove con Miss Italia Alice Sabatini sono arrivati i big della cultura, dello sport, della televisione, della gastronomia e del giornalismo. Una novità quest'anno, il premio per la sostenibilità e l'innovazione. È stato consegnato a Coop Italia per la grande attenzione che riserva i prodotti coltivati con amore e con buone pratiche agricole. Ha ritirato il premio Giuseppe Iasella, responsabile nazionale dell'ortofrutta.